Il Comune di Taranto dice no al differimento al 31 dicembre prossimo di alcune prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale per lo stabilimento siderurgico. Si tratta dei termini per realizzare interventi come gli scarichi parziali industriali in fase di realizzazione nelle aree degli altiforni e della cocheria, dell'adeguamento dell'impianto esistente di trattamento reflui nell'area della laminazione a freddo. Melucci esprime un giudizio negativo dopo aver ascoltato i principali interventi. Da istituzione ha detto avevamo dato l'opportunità ad Arcelor Mittale e ai commissari di motivarci le questioni tecniche alla base degli ulteriori ritardi richiesti in conferenza di servizi sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2017, già di per sé insoddisfacente per la città come evidenziato nel ricorso al Tar. Secondo il primo cittadino, al di là di aspetti veramente residuali riferibili al lockdown, i commissari continuerebbero ad illustrare un libro dei sogni sulle emissioni. Il bagno di realtà, secondo Melucci, è l'arrossamento delle coperture dei parchi minerali che loro stessi stanno ancora realizzando con centinaia di milioni di fondi pubblici. E che dire di Arcelor Mittal, conclude il sindaco di Taranto, non sappiamo nemmeno se sia l'interlocutore in grado di prendere legittimamente impegni per il futuro. Infine lascia qualche perplessità tutta questa fretta dei tecnici del Ministero dell'Ambiente di recepire le richieste di differimento dei cantieri.